Il comune di Castelguidone dal 13 al 22 di agosto ospita nella sala polivalente municipale una mostra personale del pittore locale di Castelguidone, originario di Castelguidone perché abita in provincia di Pescara, a Milco di Paolo. Ecco, siamo con lui e gli chiederemo, mentre vi mandiamo le immagini della mostra, di illustrarci anzitutto questa sua originalissima tecnica. Certo, è una ricerca da materiali poveri, quindi parto dall'idea di una radice oppure qualsiasi oggetto che trovo nella natura e cerco di ridargli dignità vita sulle cose che possono essere trascurate, quindi ogni oggetto contiene una propria memoria dalla pietra e io cerco di farla emergere in un contesto di colori e di, ad esempio, questo quadro. Io di solito i titoli non riesco, oppure volutamente non riesco, non li do, diciamo, come indicazione per lasciare una libera interpretazione ai visitatori, diciamo così. Parliamo di questo quadro, ma ci avviciniamo un attimo. C'è una specie di animale tratto proprio da un... e non devono essere per nulla modificati, né con pigmenti, né con vernici, quindi non devono essere abbelliti perché sono già di per sé naturali, quindi diciamo non contaminarli, diciamo. E quindi partendo da questa figura, diciamo, poggiata su... questi sono lavori su legno oppure su masonite, diciamo, che è un materiale anche povero, quindi la ricerca è proprio di questi materiali poveri, sia nelle cornici che nel... quindi seguire un filo logico. Invece quest'altro quadro, ecco, per esempio vedo una barca con due fondamentali pezzi assemblati, però non tutti. Questo è un... è un... come si chiama? Un fissaporto, non lo so, qualcosa. Quindi può rappresentare un faro, non lo so, e questa staticità, quindi i quattro colori rappresentano questa... questo approdo, questa stasi proprio di... Adesso siamo ad un dipinto. Un dipinto proprio di sovrapposizione perché c'è una stratificazione di colore e sono diversi strati di colore, diciamo, messi prima e poi tolti proprio per dare questi effetti qui quindi bisogna sottrarre sempre e quindi togliere diciamo che nella pittura dovrebbe essere questo arrivare all'essenziale che poi ci sarà un quadretto lì dove sintetizzo tutto quindi iniziare il quadro, il dipinto diciamo... dipingere le figure in modo normale poi sia con un foglio di carta vetra oppure con qualsiasi altro oggetto raschiarlo completamente e far riemergere gli strati di colore che si sono per dare questi effetti e in questa figura sempre la sovrapposizione che dicevo prima però poi c'è il sole, la grata e la luna come speranza e in questi due quadri può trasparire il mio vissuto pure a Milano diciamo che è una grande città, diciamo che è una periferia oppure... io appena sono entrato guardando da lontano questa scultura pensavo che si trattasse di una pietra lavorata invece Di Paolo ci ha spiegato a microfoni spenti che invece qui non ha lavorato cioè lui ha cercato una pietra che potesse essere rappresentativa di un uomo inchinato un feto oppure un buddha per la mia impressione è stata questa quindi è la natura già che ha fatto un capolavoro quindi lasciarla proprio integra e appunto, come dicevo prima, ogni oggetto mantiene una sua memoria certo, è chiaro, qua sembra, che ne so, un uomo di notte con una cappa e alla fine sono solo due pietre, diciamo sono due pietre e poi diciamo c'è questo solo assemblaggio di costruzione la base e altre cose lo stesso questo può sembrare un putto un angelo, una qualsiasi figura diciamo, ma c'è la... si sembra la la di un angelo con il viso il mio merito mio è quello di incontrare tutto è segno per chi sa leggere quindi può darsi una persona in mezzo a migliaia di pietre chiaramente diciamo... un'altra, un'altra, diciamo, la tecnica è uguale però un altro materiale è che lei adopera anche il legno ma questo è il legno grezzo tratto direttamente da tronchi sì, il mare che riporta, diciamo, è levica a queste figure a me basta, diciamo, soltanto qualche piccola modifica ma raramente ecco, ora chiudiamo con quest'ultima opera che ci viene spiegata perché ha un significato, diciamo, che sintetizza un po' tutto sì, un po' e quindi il pittore da Mondrian a Picasso stesso diciamo, senza alcun riferimento diciamo, dei quadri perché... e uno dovrebbe arrivare all'essenziale quindi qua dovrebbero bastare per indicare che ne so il mare a Naspia sono due linee in orizzontale e verticale dove questo rientra anche nel segno della pittura classica diciamo, la linea verticale e orizzontale per dare un quadro così è sempre la ricerca di questi materiali di ferro però in questo sfondo nero questa è una fede proprio messa lì sempre con la simbologia del sole quindi della via d'uscita ecco, adesso il sindaco di Castelguidone Mario Cicchillitti consegnerà un gagliardetto al suo concittadino e noi gli diamo anche il microfono per poterlo salutare, diciamo, a nome dell'amministrazione Grazie saluto tutti i miei concittadini saluto Amilcare Di Paolo il quale ho avuto il piacere di poter inaugurare questa mostra il 13 di agosto e devo dire che per me è stato un motivo di orgoglio anche perché conosco bene Amilcare Di Paolo ci ha sempre tenuto in maniera particolare a Castelguidone è riuscito a trasmettere con questi giorni, in questi giorni è riuscito a trasmettere tutto quello che è la stima, l'affetto che lui in qualche maniera mostra verso tutti i cittadini e verso la comunità di Castelguidone voglio pregiarlo con il nostro gagliardetto in segno di gratitudine e di affetto per quello che ha fatto ha registrato notevole affluenza la mostra e a lui faccio in bocca al lupo a nome mio personale di tutta la mia amministrazione che ho l'onore di guidare e di tutta la comunità di Castelguidone con l'agurio che lui possa continuare questa attività e possa tornare presto a Castelguidone con nuovi quadri e nuove esposizioni grazie di nuovo Amilcare e un ben ritorno qui a Castelguidone a presto con questa mostra grazie